Buongiorno, ci troviamo nel reparto ultrasuoni. In questo reparto vengono controllati particolari aeronautici e non di materiali differenti attraverso l'uso di macchine con movimentazione automatica e semi-automatica. Alla mia sinistra abbiamo un portale e un macchinario che fa un controllo in trasmissione tramite colonna d'acqua per l'ispezione di particolari con geometria complessa. Alla mia spalla è un macchinario dedito al controllo di semi lavorati metallici e alla mia destra un'area dedicata al controllo in manuale. Laggiù in fondo abbiamo una vasca per il controllo di particolari in materiale composito e non attraverso la movimentazione semi-automatica.